Possiamo paragonare a quella sul rigore di Juanito Gomez o ce n'è qualche altra che da ricordare? Beh, rispetto al risultato la possiamo paragonare. La finita era quella del... Era Gubbio, era 1-0, era l'ottantasesimo se non sbaglio. Contro il Gubbio qui? Sì, qui. E abbiamo vinto? Sì, 1-0. E la paragoniamo a quella? Sì, anche se sono due gesti tecnici diversi. Sul rigore magari c'è molta più fortuna della parata che ho fatto oggi perché è una parata che è stata costruita con gli allenamenti. Io sembra che ripeto sempre le stesse cose però con fede lavoriamo su tutto, veramente su tutto. E quindi quando vengono determinate parate non vengono a caso. Sono tutte lavorate. E quindi da una parte sono stato bravo a stare fermo perché magari lì ti fai prendere pure dalla questione che puoi uscire, non esci, ti fermi a mezza via. Io invece, ti ripeto, con il lavoro settimanale mi ho portato a fare una parata importante. Importante non per me ma importantissima per il risultato e per il gruppo che volevamo chiudere bene queste partite. C'è un'altra di parate del passato che ti viene in mente? Oppure prendiamo queste due, quella del risultato? Sì, sì, come partite che mi ricordo perché poi queste parate te le porti avanti nella mente per periodi, no? E alcune volte ti caricano pure per le partite a venire. Sicuramente c'era la prestazione del Mantua dell'anno scorso, quest'anno è andata un po' peggio però... Tiri da lontano, l'Arche, due o tre tiri. Sì, sì. Quando hai fatto la parata poi hai esultato e sono venuti tutti i più compagni. Sì, certo perché sembra banale però credo che la fase difensiva è importantissima in una squadra. e come si esulta per un gol si deve esultare pure quando uno non lo prende. E do merito pure a tutto il reparto difensivo perché oggi è stato duro, veramente come vuole il mister e come vogliamo noi. Conzo, sei felice di essere ritornato? Anche visto il rendimento che stai avendo il mister, hai anche parlato di i giocatori che sono arrivati e che hanno dato subito un'impronta e il loro contributo? Beh, emotivamente tanto. Perché, come ho detto sin dall'inizio, ci tengo tanto a questa società. perché mi ha dato tanto e io, a mia volta, voglio ricambiare. Non è stato facile subito tornare qui e mettermi subito con l'idea di dare tutto me stesso, perché poi venivo da sei mesi che non giocavo e qualcosina lo perdi. però conosco solo una cosa che è il lavoro e me l'ha insegnato il mister Orlandi che, sotto questo punto di vista, è un cane. Quindi, emotivamente, come ti ho detto prima, tanto e mi piace che posso dare una mano e fare dei risultati come quello di oggi è importante perché non è mai facile vincere. Sembrate molto, molto attaccati. Io ho notato sempre anche quando entrati in campo per il riscaldamento. Tu, i verani, il preparatore, comunque sembra che ci sia molta coesione, molto… Sì, sì, credo che sia importante il gruppo. Anche noi siamo un gruppo a parte ed è importante perché poi servono tutti. Siamo in 25 giocatori e serviamo tutti per essere competitivi e per arrivare a determinati obiettivi. quindi noi in quel piccolo gruppo ci diamo la giusta carica, ci alleniamo bene e così si può crescere. La Padova per vincere, ovviamente. Sì, assolutamente. Crediamo fortemente nel secondo posto e ce l'abbiamo come obiettivo. Partita dopo partita ne vogliamo vincere il più possibile e poi alla fine vediamo. Ne mancano 9, se non sbaglio. Alla fine di queste 9 tireremo le somme e vediamo. Non ho mai capito perché a Prosinone l'allenatore che ti ha lanciato a Bari ti ha abbandonato l'impanchino? Beh, sicuramente ci sono tante dinamiche. Io da una parte non mi dispiace. Sono scelte che ogni allenatore fa. quando sei professionista credo che devi sempre dare il tuo contributo alla squadra, alla società che ti ha voluto e ci saranno sicuramente altre occasioni per dimostrare il mio valore pure in una categoria superiore. Ora penso alla Feralpi e penso a fare il meglio per la Feralpi. Magari restando anche l'anno prossimo? Sicuramente. Vedremo poi. Sarà il tempo a parlare ora ancora presto. Perché tu hai ancora un anno di contratto con la Prosinone. Sì, sì. Le tue terre quasi. Sì, siamo vicino casa. La mia famiglia ora è al nord. Oggi era la prima partita per mia figlia. È venuta a vedere la prima partita. Ah, oggi? Sì, sì. Infatti ci tenevo a non deluderla e è stato un buon portafortuna. Dunque che mi pare abbia un sei mesi? Sì, sì. Sette mesi. Inizio marzo fa sette mesi. Aspetta che c'è un nome strano. Clue. È C. H-L-O-E. Eh. Ho visto sul tuo... Instagram. Instagram che tutti i mesi la metti là col cartello. Uno, due... Eh, bravo. Ti metti il cartello. Ecco, allora dedicato a Chloe. Questo nome da dove l'hai preso? Beh, io non è che ho un nome italianissimo, perché mi chiamo Victor, quindi ci piaceva. L'abbiamo scelto sin dall'inizio, due o tre anni fa, che abbiamo avuto il pensiero di fare una famiglia. Ci è sempre piaciuto e quando è arrivata neanche a farlo apposta era una femminuccia. Sempre il nome di un profumo. Eh. Eh. No, ce ne sono tante. Ora ci sono tanti i nomi che... Come ogni anno, eh. Come ogni anno si va avanti e... C'è una rivoluzione, quindi... Sì. Poi si va a periodi anche. Bravo. Primarie di una volta. Grazie Victor. A posto.